Provocare la mente, la via della conoscenza, attraverso Attilio M, vocedellacuete.vaianocchiocciolagmail.com Soggetto Se io voglio provocare fino in fondo la mente ed entrare quindi ancora di più dentro la via della conoscenza, devo usare uno stratagemma che è semplice ma che è devastante dal punto di vista delle sue conseguenze, ovvero sia sostenere che il principio cardine di ogni progresso dell'uomo è l'assenza, che il principio cardine di ogni vostro risultato nel percorso interiore è l'assenza, ma l'assenza di che cosa? Immediatamente sorge nelle vostre menti, pensateci, se io sostengo assenza di qualcosa, ho già messo in crisi la potenzialità di questo concetto, l'assenza. Perché? Perché ho già dato la possibilità di togliere qualcosa, ma lasciando qualcosa. Ma noi useremo questo concetto di assenza in varie maniere, all'inizio in modo più semplice, poi in modo più radicale, come vedremo. L'assenza è un concetto principe nella via della conoscenza, perché vi toglie la possibilità di usare la mente nei modi in cui essa è abituata a fare. Cosa fa la vostra mente quando deve definire qualcosa? Per forza di cose deve, quanto più la realtà è complessa, tanto più arricchire di concetti, di precisazioni, di sottolineature, o può anche fare, se si affina, un'operazione interessante che è quella di dire questa realtà è talmente complicata che io posso cominciare a definirla soltanto se scarto questo, se scarto quello, se scarto quell'altro. E questo è già un procedere della mente un po' più raffinato, se ci pensate bene, ma è sempre dentro una logica precisa della mente.